Quattro casi in un mese nell'Aretino, decine le persone soccorse e adesso anche un decesso in Toscana, a Fiesole. Il monossido di carbonio, ribattezzato killer silenzioso, ha causato la morte di un senza fissa dimora di 30 anni marocchino che si era rifugiato in una casa abbandonata. La morte è da ricondurre alle esalazioni di monossido di carbonio provenienti da un bracere a legna che l'uomo usava per riscaldarsi. Nell'Aretino c'è stato invece il caso di Pergo a Cortona, il giorno dell'Epifania e nelle scorse ore due casi distinti, uno in un luogo di ristoro, l'altro in un appartamento, prima ancora lo scorso 11 dicembre, un altro caso in Val D'Arno. Dottor Zanobetti, altri casi di intossicazione come nel caso di Pergo? Sono stati i primissimi ad accorgersene proprio gli operatori del 118? Sì, sono stati chiamati in un'abitazione per una perdita di coscienza di una giovane donna. Ovviamente entrati dentro hanno dei sensori che subito sensibilizzano il tutto e dicono che c'è sicuramente l'ossido di carbonio dentro la stanza. Molti di coloro che hanno inalato il monossido di carbonio hanno avuto bisogno della camera iperbarica. La terapia dell'intossicazione di ossido di carbonio fondamentalmente è una terapia basata con l'ossigeno. L'ossigeno è terapia ad altissimi flussi, ad alta percentuale di CO2, quindi il 100% di ossigeno, però in certi casi in base a quanto l'emoglobina è legata all'ossido di carbonio non ce la facciamo con la normale terapia al 100% di ossigeno ma i pazienti necessitano della terapia iperbarica. Quindi per valori superiori ad un tot di carbossi e emoglobina i pazienti devono essere sicuramente centralizzati nei posti dove viene fatta la terapia iperbarica, nello specifico Firenze o nella nostra area vasta al Grosseto. Con l'arrivo del freddo, anche se secondo gli esperti sono molti i giorni in cui le medie stagionali sono state superate, gli impianti di riscaldamento sono tornati in funzione e sono molti quelli, se non revisionati o difettosi, che possono essere pericolosi. Allora la prima cosa da fare ovviamente in questo periodo invernale è cercare di fare in modo tale che quando siamo vicino a delle fonti possibili di emissione, nei ambienti chiusi ci sia una reazione importante, i camini sono i principali killer. Ma come riconoscere l'avvelenamento da monossido? I primi sintomi sono sicuramente la cefalea, la nausea, la stanchezza importante, però possono esordire anche con delle vere e proprie perdite di coscienza e quindi la prima cosa da fare ovviamente è chiamare 112 per essere soccorsi. Non è di vostra competenza, ma ecco il controllo delle fonti di calore è sicuramente il primo accorgimento. Il primo accorgimento, la diagnosi non è nemmeno difficile, per i medici d'urgenza una volta avuti questi sintomi collegati al fatto che siamo in inverno è molto semplice, basta un esame del sangue arterioso che si chiama emogassanalisi e andare a vedere l'ossido di carbonio quanto l'emoglobina è legata e quindi la diagnosi non è difficile. Bisogna pensarci e caratterizzarla per il periodo invernale e per la provenienza dei pazienti. Grazie.